Il caso per il quale a breve è previsto un'udienza è certamente destinato a far discutere. Un giudice del Tribunale di Pavia ha emesso un provvedimento d'urgenza per intimare a una nota influencer vigevanese Alice Pasti, il suo nome d'arte, di rimuovere le foto e i video della figlia di 4 anni dai social network. Tutto nasce dalla decisione del padre, della bimba ed ex compagno della donna di rivolgersi appunto al Tribunale per tutelare la piccola da una sovraesposizione mediatica che la starebbe danneggiando. L'uomo inoltre ha spiegato di non aver dato il suo consenso alla pubblicazione delle immagini. Il giudice gli ha dato ragione ma come detto il caso verrà in seguito discusso in aula. La pagina Instagram di Alice Pasti ha oltre 130.000 follower, quella di TikTok più di 68.000. La bambina è presente in diversi video e fotografie su profili aperti quindi visibili da tutti. Nel ricorso il padre ha spiegato di essersi accorto dei pericoli della rete e di essersi rivolto al Tribunale proprio per tutelare la piccola. L'uomo, secondo quanto spiegato dalla sua legale, l'avvocata Annalisa Gasparre si sarebbe inoltre preoccupato perché la figlia veniva riconosciuta per strada da persone che seguono la madre sui social. La giurisprudenza italiana si è occupata spesso di situazioni che riguardavano la pubblicazione di immagini di minori su internet. Secondo la legge è necessario il consenso di entrambi i genitori.